L'icona della Madonna Nera di Cestocova, regina della Polonia, tanto venerata dal compianto e santo Papa Giovanni Paolo II, dall'11 al 25 novembre sarà qui, in mezzo a noi, a San Giovanni Rotondo, presso i luoghi che hanno visto la presenza, l'opera e la santità del venerato confratello, Padre Pio da Pietricina. Vi aspettiamo, non mancate! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a questo nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e a San Pietro da Pietricina tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare, in comunione spirituale con coloro che si uniscono a noi attraverso Padre Pio TV oppure Internet in ogni parte del mondo. Preghiamo anzitutto per gli ammalati, gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà, quelle che vivono dei gravi lutti, le persone in cerca di un posto di lavoro, i carcerati, i peccatori e tutti quelli che vivono lontani da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo anche per i nostri benefattori e per coloro che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per il Santo Padre Francesco, il Papa Emerito Benedetto, per il nostro Arcivescovo Franco, per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa, per la nuova evangelizzazione e per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo per la casa sollievo della sofferenza opera di Padre Pio e per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo, per gli sposi desiderosi di avere un figlio, affinché per intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie e di San Pio da Pietricina vedano finalmente esaudite le loro accorate preghiere. Preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti, dei religiosi, delle famiglie, per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio, per la pace e la giustizia nel mondo intero, per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo. Preghiamo anche per i numerosi profughi costretti ad abbandonare la loro terra a causa della violenza, delle persecuzioni oppure della fame. Preghiamo per coloro che in queste ore sono in viaggio affinché possano raggiungere, sani e salvi, la loro destinazione. Fine preghiamo per gli agonizzanti, per i nostri cari defunti. Oggi vogliamo avere un pensiero particolare per il piccolo Pietro di San Giovanni Rotondo, coraggioso bambino di dieci anni che per anni, lunghi anni, ha lottato contro un tumore e oggi il Signore ha chiamato alla sua gloria. Preghiamo per i genitori, per la famiglia, perché il Dio di ogni consolazione li fortifichi e consoli in questo momento di dolore. Preghiamo infine per le nostre intenzioni particolari e quelle di tutti i pellegrini che visitano il nostro santuario. Oggi mediteremo i misteri della gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli, amin. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, l'eterno riposo dono loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo. dal Vangelo secondo Matteo. Ma l'angelo disse alle donne, non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Dagli scritti di Padre Pio La vita di grazia, a cui siamo risorti, è di sua natura immortale, siccome immortale di sua natura è la vita di gloria, a cui Cristo è risorto. Con questo solo divario che, se Cristo non può più morire alla sua vita di gloria, ciò è frutto di beata necessità. Ma se noi non moriamo più alla vita di grazia, deve essere merito delle lezioni e del nostro studio costante. Chiediamo al Signore la grazia della virtù della speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in dendazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, oggi, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi peccatori. San Pio da Pietrecina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi li condusse fuori verso Vetania, e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro, e fu portato verso il cielo. E i discepoli, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dagli scritti di Padre Pio Questo verbo divino, di sua piena e libera volontà, volle abbassarsi sino a noi, per sollevare noi alla cognizione di Dio. Piacque tanto all'Eterno Genitore, che l'esaltò, volle a Lui assoggettare tutte le creature. Gesù è adorato in cielo. Chiediamo al Signore di vivere ogni giorno protesi verso la beatitudine eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi, San Pio da Pietrecina, prega per noi, l'eterno riposo, donna loro al Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria agli Apostoli, congregati nel Cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli Giunto il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Dagli scritti di Padre Pio Chiediamo al Signore il dono dello Spirito perché illumini e guidi la nostra vita. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi. San Pio da Pietriccina, prega per noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Santissima in corpo ed anima il cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù pregava dicendo Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano col me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Dagli scritti di Padre Pio Senza il divino figliuolo, a lei sembrava di trovarsi nel più duro esilio. Ma ecco finalmente l'ora sospirata è giunta e Maria sente la voce del suo diletto che la chiama lassù. Vieni, o diletta del mio cuore, è finito il tempo di gemere sulla terra. Vieni, o sposa, a ricevere dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, la corona che ti è stata preparata. Chiediamo, Maria, che ci accompagni nel cammino terreno per raggiungere anche noi il Paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, l'eterno riposo, dono al loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, regina del cielo e della terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Dagli scritti di padre Pio Le porte del cielo si schiudono e la madre di Dio vi entra. Non appena i beati la vedono, compresi dallo splendore della sua bellezza, le muovono tutti giulivi e festanti incontro, la salutano e la onorano con i titoli più eccelsi, si prostrano ai suoi piedi, le presentano i loro mangi, la proclamano concordemente loro regina. Preghiamo la Beata Vergine Maria perché ci assista nei combattimenti della vita e perché la speranza animi sempre in nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi. San Pio da Pietrescina, prega per noi. L'eterno riposo, dono loro Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Salve Regina, mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Sgliamo罷a, non ci questa non ci in att Redmondo. Ave, 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 ave,asia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste Dio, figlio Redentore del mondo Dio, Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Inviolata, prega per noi, Madre Intemerata, prega per noi, Madre Amabile, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudentissima, Vergine degna di venerazione, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo, vaso degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di Davide, torre di avorio, tempio d'oro, arca dell'alleanza. Porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del santo rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina dell'ordine serafico, prega per noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, oh Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, oh Vergine gloriosa e benedetta, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, oh Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per l'intercessione di Maria Vergine concede a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora, secondo l'intenzione del Santo Padre, per l'acquisto delle sante indugenze, che in questi giorni vogliamo offrire per i nostri cari defunti. Diciamo un pater, ave gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per l'acquisto delle santi indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Papa Giovanni Paolo II Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci. Certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi, per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ammi. San Pio da Pietricina, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre che nella risurrezione del Figlio, inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Ammè. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine e Maria, risorto dal sepolcro, custodisca e integra in voi la fede del fonte battesimale. Ammè. Lo Spirito Santo che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Ammè. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ammè. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Andrò a vedere laudì, in cielo, Patria mia, andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore. Al cielo, al cielo, andrò a vedere laudì, al cielo, andrò a vedere laudì. Andrò a vedere laudì, e il grido di speranza, che infonde mi costanza, nel viaggio e fra i dolor. Andrò a vedere laudì, al cielo, andrò a vedere laudì. Buona e santa notte a tutti.